Perché siete identificati nella vostra mente. Una voce attraverso Attilio M. vocedellacuiete.vajanocchiocciolagmail.com Una voce. Riconoscere la vita significa mettere in crisi il protagonismo nell'agire, nel pensare e nel provare emozioni, quello sul quale vi basate per dirvi se state migliorando e se siete pronti per raggiungere la vostra meta evolutiva. Si segue l'impulso di donare agli altri ciò che bussa dentro di sé, senza volere cambiare nessuno, nemmeno il mondo. E la vita che attraversa gli esseri e che li usa come tramite per portare ora ad uno ed ora ad un altro indistintamente ciò che non si conosce e non si può comprendere. Subito dopo ci si ritira, consapevoli di essere lì unicamente, a testimoniare l'onda della vita che conduce in quel luogo ed in quel momento e che poi condurrà altrove. Voi, uomini, siete parte del tempo della vita, semplice presenza nei fatti che accadono, ma non lo riconoscete perché siete identificati nella vostra mente. Sui fatti e sugli altri costruite concetti per imprimere il vostro marchio e per esserci come un io disgiunto dall'unità dell'essere, sentendovi i protagonisti di ogni azione. Anche se nulla vi appartiene e nulla riconoscete del vivere e dell'agire che sono realtà impersonali in cui ogni cosa è effimera, irripetibile e completa in sé. Lì è il divino.